Se il confine tra centrodestra e centrosinistra a livello nazionale sembra dissolversi sotto la bandiera della governabilità, ecco che la sinistra cerca di ricompattarsi rinfoltendo le proprie fila, partendo proprio da chi è uscito dai grandi partiti, come spiega il leader del movimento futuro a sinistra Stefano Fassina, intervenuto a Napoli nel corso di un convegno sul mezzogiorno. Nelle prossime settimane proprio sulla legge di stabilità avvieremo il gruppo unico alla Camera e al Senato e in parallelo sui territori come appunto oggi qua a Napoli va avanti un percorso di costruzione del partito, di raccolta delle energie e delle disponibilità, degli interessi a stare in questo percorso. L'assemblea costituente del nuovo soggetto politico che è in mente Fassina si terrà introdicembre, ma intanto proseguono dibattiti e incontri per sostenere quelle realtà amministrative che le elezioni le hanno vinte senza i partiti alle spalle, primo su tutti il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Più gente siamo più ne siamo, mi fa piacere che Napoli venga colto come un laboratorio avanzato qui in un territorio forte, difficile, pieno di passione e di energia si è costruita e si sta costruendo l'alternativa alle politiche riberiste, al governo Renzi, al centralismo autoritario e vogliamo essere punto di riferimento per tutti quei sindaci, per tutte quelle esperienze politiche che non si riconoscono nel sistema. La necessità è quella di cambiare il verso delle politiche economiche del governo Renzi che sembra aver dimenticato il Sud. Si taglia la tasi a tutti, anche a più ricchi, e si lasciano milioni di persone in condizioni di povertà assoluta e i comuni con l'acqua sempre più alta alla gola. A Napoli Fassina attacca la scelta del suo ex partito, il PD, sull'idea di candidare Antonio Bassolino alle prossime amministrative. Confesso una grande tristezza perché richiamare in campo i protagonisti di una stagione che si è conclusa è l'indicatore di un partito che è in condizioni croniche, critiche di salute.